Con 600 somministrazioni al giorno si affanno che a Urbino e quasi mille nel comune di Pesaro prosegue senza sossa al piano vaccinale nell'area Vassa 1. A fare un bilancio sulle coperture il dottor Augusto Oliverani, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica. Le coperture sono veramente molto buone, abbiamo raggiunto dei risultati che non speravamo di raggiungere. Abbiamo a livello degli over 80 una copertura con una singola dose dell'83% che raggiunge anche picchi dell'86% nella fascia di età 80-84 anni. Molto buona è anche la copertura negli over 70 con una singola dose che è dell'82% e negli over 60 del 77% con una singola dose. Sono aperti i posti per la prenotazione degli over 40 che andranno avanti per tutta l'estate e abbiamo aperto circa 120.000 posti a livello regionale. Novità anche per i punti vaccinali, da ultimo lo spostamento a Urbino dal palazzetto dello Sport al Bocciodromo che grazie ad ampi spazi dove operano quattro medici e altrettanti amministrativi è possibile aumentare il numero delle vaccinazioni con una potenzialità di mille somministrazioni al giorno. A Fano invece si prosegue al Codma. È pronto ad essere utilizzato anche il primo piano quando vaccineremo numeri elevati di soggetti senza problematiche quarantenni, trentenni e quant'altro. Rimane attivo il ristro a Pesaro anche se è pronto a poche centenelle di metri un punto parallelo presso la Team System. Anche qui nel momento in cui dovessero aumentare i volumi è già tutto predisposto per partire con questo secondo punto vaccinale. Inoltre, come spiega Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, si stanno organizzando dei punti vaccinali di prossimità come a Gradara, Marotta, San Costanzo, Macerata Feltra e a Sasso Corvaro Auditore. Questi punti che ovviamente non opereranno a tempo pieno come i PVP contribuiranno ad aumentare la popolazione dei soggetti vaccinati. Si parla anche di un eventuale Astra Day, me lo conferma qual è la situazione delle dosi a disposizione? Al momento la Astra Day non è in cantiere, se ne parla tra gli addetti ai lavori, nulla esclude che quando avremo disponibilità di dosi a sufficienza e questo quindi non penalizzerà i richiami di chi è già stato vaccinato, si possa pensare a una Astra Day, quindi a una vaccinazione a richiesta di massa a prescindere dalle fasce d'età, ma al momento non è in cantiere.